ciao ragazzi bentornati con questo nuovissimo video del video e oggi siamo su PS2020 ragazzi nello scorso video siamo andati ad usare diciamo tutti questi, allora siamo andati a scioppare siamo andati a scioppare, non abbiamo scioppato un gran che però oggi ragazzi oggi io vedo qualcosa di molto molto bello perché ho la mia squadra no? che è questa come vedete ho i due giocatori nuovi però come vedete sono tutti a livello 1 quindi ragazzi oggi li andiamo un po' a mandarli di un livello più diciamo al loro ultimo livello perché ragazzi ho abbastanza di quelle però prima di tutto ragazzi ce li dobbiamo proteggere ci dobbiamo proteggere alcuni giocatori, protegge i giocatori perché ci sono alcuni che ne vale da proteggere aspetta voglio fare una cosa ma se faccio selezione faccio così ecco e poi faccio ad auriero e faccio azione proteggi ecco ci sta perché cosa ci metto di meno raga allora ragazzi vado un po' a mettere perché se sbaglio potrei cancellare no? quindi a quelli la ragazzi metto il proteggimento vabbè ragazzi l'ho fatto ho messo la protezione perché c'è la possibilità che io a volte no? li debba allevare ad alcuni quindi per non avere più problemi vabbè ragazzi facciamo una cosa facciamo 150 no? così per essi sicuri cioè già raga 42 mila per valere raga gli sprecherei cioè veramente Stava riprendendo in giro Però ragazzi attenzione 95 95 non è andato Di un livello Cioè ancora sta a 16 quindi C'è la possibilità che Balè Possa andare più in alto Andiamo ad usa questi Per errori si Cioè 9, 20 No no dai l'ultimo Mi serve all'ultimo Sbagliato Eccolo Sbagliato Dovevo fare un'altra cosa Dovevo andare questo Avanti ecco Balè ora va 22 no 96 ancora no Peccato Peccato ragazzi ma so una cosa So una cosa ed è che Il nostro amichetto Sergio Ramos Doveva andare più in là Dove è Sergio? No dobbiamo essere qui in alto infatti Dove è? Non lo trovo più? Com'è? Non posso aver fatto una cazzo? Eccolo Allenamento Raga allenamento Facciamo che lui venda i 42.000 o i 1000 Ecco Andiamo così Vediamo se ce la fa Credo di si raga Deve andare a 97 Io credo che lui Andrà a 97 Quindi ora lui ci andrà No dai Non puoi Però ragazzi lui va a 97 Forse anche a 98 Forse Ho detto forse perché Lo vedo A 96 così Quindi Non è facile Che uno resti lì così Ok 96 Non c'è proprio niente ragazzi Pure lui 96 Che volete Ragazzi ci si vede Alla partita Ragazzi la partita è contro La Inter Quindi avremo contro Luca A cui io non vorrei Mettere Luca E quindi metterò Bale Bale E infatti Vedete ragazzi Ora sta a 92 Infatti Non c'è proprio Ragazzi Poi metterò anche Sergio Ramos Perché voglio potenziare Di più C'era Oh Van Dì E Sergio Ramos In difesa Ma come posso Non vincere Cioè Più che altro E loro non potranno Mai segnare Cioè Da quel che ho visto Perché sono in condizioni Veramente schifose O che ognuno Può studiare Ma ragazzi Ma Stato schifo Ma che è Che stai Tutti gli istanti Poi si è giurato Cioè Bale Ma che ha fatto Cioè Raga Ma Dove esserci Condizioni Peggiori Boh Io non so Che dire Perché se no Bale Poi va lento Fa queste cose Spero che non sia lento E che Vada bene Perché Bale Mi serve In questo momento Mi serve Segnare Luca Guarda Bale Dai Mamma mia Raga Bale Allora mettetevi comodi E preparatevi A questo Adesissimo Mace Mi sa che Stai Adesissimo Aspettino Io come vuoi Il piede qui Come vuoi Che fanno Ecco Pianic Che stadio Pochi impianti al mondo Pace non mancare Una storia tanto illustra Nooo Non conto La raga Blanca No Però io non ce la faccio No raga Avevo il coso No raga No L'odio No raga Ci avevo Il coso No Il centro Non si mette mai Perché da un fastidio Tipo tutto Non si mette mai Che fatti Raga È la prima volta Non so se è la prima volta Ma per me Sembra la prima volta Che l'ho fatto Sta cosa C'è Veramente Magnoli Te la passa Salah Che la passa A Rakitic Te la passa A Rebicic Rakitic Rebicic No dai Mi vai A non prendere Dai Rebicic Dai Rakitic Rebicic C'è ragazzi Mi senti a stico Sentire Rakitic Rebicic No 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 Ma che fobale Che resta fermo Mi ha dato Questo controllo Che dove sto andando Raga La metti in avanti No Lukaku no No Martins Raga Attenzione Che quello C'è Oh Romagnoli Sempre con la sua Difesa Vanamente Oh Sef Veloce Tu mi puoi dire Che sei dentro No Come oh Che oh Che 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 Raga Ma hai visto Che era impossibile Che lì Come hai fatto A beccare Il difensore Me lo dite No Lì però No Se ora Stanno a Fai cosa A balè C'è Lo scudo No Raga Ma come faccia Tira Se balè È stato Preso Di mira C'è Ora È proprio Dimmi tu Come faccio Io C'è Impossibile Sarge Ramos Tu sei pure Un cenno Quasi Diciamo Che si sta Allenando Come hanno detto Perché lo vedo ragazzi Che è molto forte In tutti No Dammi Non mi puoi Ma è un po' Lento Ovviamente Che sento Che vuoi No Ma che fai Dove tirarli No raga Io odio Sta cosa Del Automatic Passaggio C'è Il filtro Ora fa anche Questa Cagliata No Ecco Raga Ma da una giornata Di più C'è L'hanno Peggiorato Il gioco Non le va Sto Gran cavolo Di passaggio Automatica Perché Prima di tutto Lo vina Il gioco Mamma mia Sergio Ramos Ci hai salvato Ah No raga Non so se voi Ve l'abbiate visto Ma L'ha fermato Cioè Sergio Ramos Grazie Al suo Mamma mia E sta la tira In porta E sta la tira In porta Ragazzi E sta la Mamma mia In questa In questa La tira E ci va Cioè E sta Diciamo E sta E sta Stammo Stammo Inventati Ragazzi Quindi E sei Ma è Allora Fate una Cazzata Lo so Ho messo Tutti i tiratori Che non ho usato Ragazzi Allora Ragazzi Lukaku L'aveste Già Usato Cioè L'aveste Già Usato Perché L'ho Già Usato In passato Perché In realtà Lukaku È I cani che ho fatto io Silvestri Oh no Blak Mamma mia Non l'ho mai usato Ragazzi Silvestri Spero che faccia Ma perché Ho messo Silvestri Ma perché Ho messo Silvestri Raga Ma che è Dai Raga Gli ho fatto Stato Accanto Ma che è Mi prendi in giro Guardate No raga Ma l'ha preso Ma come è fatto No raga Ho messo Silvestri Perché ho messo Silvestri Come portiere Ho scambiato Blak Cioè L'ho cambiato Ho detto Vabbè dai Ma non mi ci sei venendo più Ma mi è che vale Io non l'ho mai usato Silvestri Io ho detto Vabbè Che giuro Meglio Buffon Forse qua No Vabbè Erikson sto buono Ho visto che Cioè Una cosa del genere È difficile Vabbè Ho cambiato Mosalara Laga Con Erikson E spero di non aver fatto Una Cavulata No Perché Che non prende Cioè Non lo prende Non so Sembra Non so Ma è poi questo qua Il gioco Come fa a non prendere Una palla Cioè Veramente Una cosa Allucidante Vedete Una cosa del genere Veramente No No ragazzi Sono buttissimo Eh Non stavolta Ovviamente Ma lei In realtà È Un grande Cioè Con quei tiri Raga Fa dei gol Cioè Poi Nella realtà Non so Se il gioco È così Quindi Mamma mia Raga Mi ha fatto fare Un gol Cioè Veramente Andiamo a vedere Un po No Aspetta Però passo avanti No No Forse Era meglio Dietro Mamma mia Chi era Quello Chi era Nerger Ramos No raga Ma io l'ho fatto Bello Cioè Ammetterlo Perché Cioè Avete visto Che ha fatto Oh Sono Oh Che è Oh ma che ha fatto Che ha fatto No Ma che Gli dai pure Il giallo Ma dai Il rosso Dove ci siamo Dai Il rosso Ma io neanche Gli ha fatto Perché è Cando così Eh ma Oddio Dai Ma voi perché Cando così Non so Cioè No raga Io l'ho fatto Qualcos'altro Di peggio Ma Cioè È peggio Ma Cioè Quando mi è caduto Mio Dio Che abbiamo Gli ha fatto Ah niente Da preoccuparsi Ragazzi No Chi è quello Dove c'è Il loro Ericsson Vabbè Martínez Dai Sergio Ramos Non ti metto Tu ad attaccare Perché Velo Dio Sei molto lento Dai 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 No Young Proprio Barone Cioè Fatti Fallo Fima Non è detto Che finirà Così Oh Ma Vai Bassà E conquista La palla Si ferma Qui la manovra Palla Lukaku Ma Poi perché Sì Sì Ma Perché Aspire Vengono Cioè Tutte e due Se mettono Ogni volta No Se lo prendi Sennò Te Proprio Te 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 Levo Dall Dalla Squad No Ma Young Proprio È ostinato Cioè Proprio Vuole Proprio Non gli importa Se fa fallo Ma Cioè Proprio Non gli frega un cavo Cioè Raga Non gli frega niente Fa fallo Va di forza Proprio Lo fa sì Ma No È Cacchio Che dove lo prendessi Perché Che non l'hai preso Ma non è detto Mi ho detto Il numero No No Vale Tiraglielo No 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 Ti passano L'epicic Mortacci Raga Mortacci No No Ragazzi No Che brutta cosa No Dai Cioè Raga Cioè Cioè C'ho sempre Sarà Che mi aiuta Cioè Come posso Di Sarà Mi serve Ragazzi Questo era il video In realtà Dove essere una parte 2 Ma non è proprio La parte 2 Quindi Ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Perché A me In realtà È piaciuto Veramente Un sacco Io spero Di fare Anche Tanti altri video Con Test 2000 Perché Mi piace Ragazzi Questo gioco Perché È Fantastico Un'altra cosa Ragazzi Che ho trovato Sancho Però Sancho Non Quello Migliorato Mi fa vedere Che non è allenato Non so Però vi faccio vedere Cioè Sono andato a vedere Sancho Sancho Quella Il giocatore De la Come si chiamava BVB Come era Non mi ricordo più Come si chiamava La squadra Vabbè E ragazzi Non ha una squadra Mi dice Ma non è vero Sancho Infatti Ho detto Ma io Sancho Non l'avevo visto Da qualche parte Infatti è vero L'ho visto Sul Infatti è Faccia parte D'una Delle squadre C'è Uno dei giocatori Dove è Sancho Che guarda Deve andare a cercare Ragazzi Che Eccolo Sancho Ragazzi Come mi fate Capire C'è Che significa Perché Però ragazzi Attenzione Che lo vedo Molto molto interessante 19 anni Mamma mia Io lo vorrei usare Forse Cioè Ragazzi Avevano uno Che ha In realtà Ora Ne ha 20 Cioè Sono andato a vedere Su Google Ragazzi Ne ha 20 Ne ha 20 Sì ragazzi Perché a volte Io non conosco Alcuni giocatori Quindi Li vedo Un po' A scoprirli Perché ragazzi Il peso di una 20 È molto utile Perché Ti fa scoprire I giocatori Nuovi E niente Ragazzi Questo era il video Di oggi Io spero Che vi sia piaciuto E niente Ciao ciao Ragazzi Forse oggi Non ciò che credo Di sì Esce la canzone Happy Andatelo A vedere Andate ad Prima di tutto Ragazzi Ad ascoltarla Perché Non so È Fantastica Ma voglio che Lo diciate voi E poi ragazzi Perché È Fantastica Poi ragazzi Andate Prima di tutto Ad iscrivervi A quel canale A questo canale Lasciate un bel mi piace Sia a questo Video Che al nuovo video Che andrà nel Canale di Red Quindi Happy E Ragazzi Ovviamente Dovete Lasciare la La campanellina Aperta Perché Se no Non avrete mai le notifiche Dei miei nuovi video Se no È un problema Ragazzi Questo era tutto Non ci vediamo Non ci vediamo Niente Ciao Ciao